La terza del convegno, ancora una prova per tre anni sulla distanza breve, stavolta sono in 12 al B, Ancelotti F, al rientro da settembre il favorito, Arco dei Febi, Davide Cangiano, Abiclamei, Lucio Becchetti, Atlantefeg, Gennaro Ametrano, A100P, Marco De Vivo, Achille Caff, Giampaolo Minucci, Adelsco, Paolo Petropaoli, Aquilei RL, Davide Angeletti in seconda, Aurora Reaf, Roberto Vecchione, Altavilla Jet, Dario Battistini, Amatrice Sko, Warner Martellini, America Turro, Mario Manzone, Ancelotti F, Antonio Di Nardo. Problemi per Amatrice Sko, allargo la rottura di Aquileia, la macchina che stacca e prova ad andare davanti, prova ad andare davanti, Achille Caff, ma lo contiene Atlantefeg, ed è Atlantefeg che guida al passaggio di fronte alle tribune, davanti a Achille Caff, che per il momento però non desiste, prova un nuovo affondo, 29,7, alle spalle dei primi due Ancelotti F, poi ancora Arco dei Febi, Abiclamei, quindi Aurora Reaf, nuovo affondo di Achille Caff, che dopo 600 scavalca l'avversario con una terza frazione in 14,344, uno dei primi 600 metri, penultimo a curva Achille in vantaggio, davanti a Atlantefeg, terza posizione per Ancelotti, gli altri più indietro, capeggiati da Arco dei Febi su Abiclamei, 800 in un minuto e due decimi per Achille Caff, che guida anche sulla retta opposta alle tribune, avendo sempre in scia Atlantefeg, a questo punto sposta Ancelotti F, sopravanza Atlante, punta su Achille, in bocca della curva conclusiva dopo un chilometro, uno quindice, due Achille al comando, Ancelotti che lo impegna, poi più indietro Atlante, sta facendosi avanti anche Aurora Reaf, ma la lotta davanti è fra Achille e Ancelotti a 200 dal palo, Ancelotti appariglia Achille e poi se ne sbarazza, c'è 14,2 dai 400 ai 200 conclusive, Ancelotti che se ne va per proprio conto a vincere netto e sicuro davanti a Achille, terzo posto per Aurora, poi Atlante e Arco dei Febi, 1,58 e mezzo, media intorno all'1,14, scarso, un bel rientro davvero perché consideriamo che non correva da sei mesi sto cavallo, anche di più di sei mesi e si permette di dominare col piglio del più forte, guardate che eleganza, vabbè, questo è un figlio della Etna Sec, fratello di Nesta F, di Oibambam F, di tanti cavalli buonissimi, Ancelotti F con Antonio Di Nardo che raddoppia subito, raddoppia anche Gennaro Casillo, stavolta è colorizionato il signor Mauro Prospero, la quota 1,88, il tempo al chilometro nell'ordine dell'1,14, forse anche un filo scarso.